Ragazzi, il primo che raggiunge 5 traverse vince questa sfida Ok, ok, ok Sono emigrati in Italia Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua a Roma con i bei ragazzuoli Abbiamo Ari Laza, abbiamo Om e abbiamo il Pirla Sv Signore e signore Ragazzi, ci troviamo qua a Roma nel fitness club di Vianello Quindi ragazzi, se vi fa piacere potete passarci Let's go, baby Quello magari a fine video possiamo fare un mini corto Però lo vedrete poi su Instagram Bene Ragazzi, oggi siamo qua a fare una bellissima crossbar challenge Ok, siamo pronti Io, non contro di voi, non contro di te Ma contro Om Io volevo giocare Allora ragazzi, in questo video sfiderò solo Om Questo è il razzismo verso i bianchi Ragazzi, fatemi sapere qui sotto Se volete altri video, altre crossbar challenge contro uno di loro Ok, quindi iscrivetevi qua sotto contro chi volete che io sfidi Ok, quindi ragazzi Bando alle ciance Il primo che raggiunge 5 traverse Vince questa sfida Ok ragazzi Quindi alla meglio dei 5 Il primo che arriva a 5 Vince Let's go 30, 0 Sono, 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 sono Samuel Sono, 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 Samuel Sono, sono, sono Sei pronto a perdere? Sei pronto? Eh? Sei pronto? Quelli margini li faccio qui perché quelli buoni li tengo perdono Ma io adesso ti voglio vedere Io adesso ti voglio vedere Dai, dai Così ti spogli Attenzione Attenzione Andiamo Allora, ok Om Sei pronto? Sei pronto ragazzo? Sei pronto? Sei pronto? Mamma, abri che ti fa sedere così Ok, capito ragazzo? Io ti faccio culo Hai anche i ciabatti mattarelli? Sì, ho ciabatti Ho ciabatti, ho cucchiaio, ho tutto Di legno ragazzi Mondo convenienza Allora ragazzo Sì Pari o dispari? Ho carta fuori di sasso Diciti tu Pari o dispari? Pari o dispari? E buttiamo Sei pari o sei dispari? E buttiamo Ma sei pari o sei dispari? Ah, sì Eh, pari dispari No, no Pari, dispari Ok Io sono pari Io sono pari Ok, dispari Scusi Vai Tu, chiamone E giù Quattro pari mio Let's go Vai Om Il primo Traspar Parte lui per primo Ragazzo mio Mi sa che devi mangiare un po' di riso col pollo O no ragazzi Un po' di riso col pollo Riso contento Dai ti faccio vedere io Subito Scuola Mamma Africa Mamma Africa Scuola materna Scuola materna Scuola materna Scuola materna Scuola materna Vai scuola materna Scuola materna Nooo Zitto Niente Scuola materna Facci vedere la scuola materna Fammi vedere ragazzo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ehm... per la fisica quantissima del calcio. Così stai un po' zitto e vediamo se con i piedi sei più bravo che volo un po' male. Da qui! Corsa! Gadeu! Gadeu! Uto! 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 Dai! Come si succede a stare sotto di un uomo? Tira! Niente! Niente! Cavolo! Niente! Però sono sempre in vantaggio e quindi va bene. Ci siamo, ci siamo! Ci siamo eh! Ci siamo eh! Ci siamo eh! Pum! Tresa! 1-1! Pareggio! Pareggio! Basta! Questa! 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 Tresa! Calma! 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 Calma!!!! Calma!!! Calma! Calma!!!! CLEMAAA! Siamo 2-1! Ma va bene! Nessun problema! Nessun... Guardate! Nessun problema! Non gioca con me! Non gioca con me! Disgrassa! Disgrassa! Vai! Vai! Trovessa! Presa! Dove va? 2 a 2! 2 a 2! 2 a 2! Aspettila! Non gioca con me! Please! Un piedino magico! Luke! Eh! Vai a prendere il mio pallone! Eh sì! Eh! No! Si comincia! Quasi! Bel tiro, ma quasi! Ma non basta! Ma non basta! Vai! Devi scendere! Come l'acqua! In Africa! Vorrei rinascere il nero ragazzi! Vai! Desgraça! Desgraçado! Piano! No Brasileo! Desgraçado! Oh! Uh! Tocco su Puccarajo! Puccarajo! Mami! Papi! Vai, home! Uh! Momito! Un pochito! Un traversito! Sempre! Vai! Va bene! Basta! Adesso vado io! Arrivo a tre! Subito! Vado, eh! il pallone inizia a scottare ufficialmente raggiunti i 10 minuti vi potete impegnare adesso ok ok scusami attenzione sto filmando il culo di omar in questo me piace a ragazzi c'è un bambino e guarda queste cose insieme se omar la prende il samuel e l'abbiamo fossa mamma mia l'ha detto e qui c'è un match point 4 a 3 fossa 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 mamma africa vuoi andare a mangiare riso con pollo? oh per favore riso con pollo verso scuscus wow ragazzi riso con pollo verso scuscus non è male non è male vado io? no aspetta vado io om per la quarta traversa si potrebbe avvicinare a me o potrebbe non essere così lo scopriremo adesso niente off samuel per la quinta traversa un po' di suspense perché ci vuole vorrei i tamburi? nooo ho sentito il cuore che batte tira godo godo la fare il fenomeno mamma mia ragazzi di quanto nooo son fenomenal maiao fenomenal do brasil do brasil per 4 di u oh poca buziria 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 grazie mi insegna fare questo è un breve vivente basta la resta a far muovere tutto un po' alle fine calci ma dipende non ho te la da scegliere no, però per il solito ti ligo la destra dammi qua, premio il piede dammi qua premio il piede piedino fatato attenzione non la piatta non la piatta twerk 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 ragazzi è stata una bellissima sfida intensa soprattutto c'è stato bello vado una volta a settimana alla parrucchiera se volete lo posso link in descrizione ragazzuoli questo video si conclude qua per questa volta purtroppo ha perso ma chi lo sa ci sarà una rivincita ok e sarete voi a deciderlo se farlo oppure no quindi ragazzi spolliciate mettete like iscrivetevi iscrivetevi sul canale di home io di tutti quanti ok chi è che lo segue eri chi è che lo segue pirla smu quindi ragazzi fatelo se vi siete iscritti noi vi ringraziamo è stata una bellissima crossbar challenge fatemi sapere se volete altre sfide di questo tipo noi ci vediamo nel prossimo video LILIA ALLO STURIO ciao